GORMIANI 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 Quei patetici gormiani non sanno che durante la nostra ultima battaglia io ho infettato uno dei frammenti. Ora conosco tutti i suoi segreti. So tutto riguardo la quinta energia. GORMIANI Adesso GORMIANI sarà finalmente nostra. Sta succedendo qualcosa di terribile. Nel regno della roccia. Dovete andare a vedere. Presto! Ma che accidenti? Che cos'è Augie? Sembra un cristallo di roccia ma la sua energia è diversa. Non credi che sia pericoloso vero? Sì decisamente pericoloso. Zotobo quella specie di enorme sasso mecha ci ha conciato per le feste. Mecha. 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 Mecha! Sapevo di averlo già visto da qualche parte. Mecha. Eh? E il futuro di GORM è in pericolo. Visto? Dobbiamo distruggere quella geggio mecha. Sfortunatamente i cristalli mecha non si possono distruggere. Fantastico. Possono solo essere disattivati. e l'unico modo per farlo è... Zot. Quale? Qual è il modo? Non ti fermare ora. Ma che succede lì fuori? Lo scudo. Lo scudo è scomparso. Ciao, guardiani. Vi sono mancato, vero? Ragazzi, invochiamo un lord! GORMITI! Potenza degli elementi! Energia del fuoco! Combatti! Lord dei GORMITI del fuoco! Kerion! Gred è diventato più potente. Riesco a sentire la sua energia. Sì! Ma tu sei un lord, giusto? Facciamolo a pezzi! Magma Blast! Allora, lord del fuoco, ti stai forse bruciando? Attenti, guardiani! Il caotico potere oscuro di Gred è stato rafforzato da una nuova energia. Aoki ci ha parlato di un mega superpotere mega. Forse è proprio questo. Però io non ho ancora usato tutta la mia forza. Guardate questo! Wow! L'attacco di Gred è stato così forte da averlo spostato indietro. Adesso! Scappate pure, tanto mi prenderò. Fonda oscura! Aoki, dobbiamo ascoltare il resto del messaggio di Electrion. Sto facendo il possibile. Se riuscissi a... E l'unico modo per farlo è rilasciare le più potenti energie su Gorm. La torre sbloccherà il potere dei vostri bracciali degli elementi. La sequenza di attivazione è stata avviata. ... ... ... ... E' davvero pazzesco! Riesco a sentire l'energia degli elementi avvolgermi e scorrere nel mio bracciale! I vostri bracciali ora sono ultra bracciali! Se ne sarete degni, vi condurranno dei guerrieri Mecha, i Gormiti dell'Energia Mecha! Questa è la vostra missione! Trovate i sigilli, risvegliate i guerrieri Mecha, dimostrate il vostro valore e salvate Gorm! Forza ragazzi! Cosa stiamo aspettando? La nostra missione ha inizio! Gormiti raggiungibili, chi mi fermerà? Gormiti! Gormiti! Gormiti raggiungibili, chi mi fermerà? Gormiti raggiungibili, chi mi fermerà?